Con la guerra in Ucraina, la caccia ai russi infiltrati in Italia è diventata un'ossessione. Tutti i leader filorussi in Italia li conosciamo. Berlusconi, ve lo ricordate, era pappa e ciccia con Putin, faceva bisbocce, lo chiamò un dono del signore, lo propose per il Nobel per la pace. Salvini con la maglietta di Putin che diceva ci vogliono più Putin e meno Mattarella, il suo braccio destro che andava a trattare mazzette in un hotel di Mosca. Renzi, che autorizzò vendite di armi italiane alla Russia anche dopo l'embargo della Crimea, voleva levare le sanzioni, entrò nel CDA di una società di car sharing italo-russa partecipata da una banca di Stato russa. La Meloni, che voleva togliere anche lei le sanzioni, nel suo libro Io sono Giorgia, scrisse che la Russia di Putin è parte del nostro sistema di valori per l'identità cristiana contro il fondamentalismo islamico. Poi lei ha cambiato idea perché lo sa che la CIA basta che faccia così e il suo governo casca. Ma si continua a dire che in Italia i putiniani sono due, Salvini e Conte. Salvini è vero, Conte non ha mai detto una parola a favore di Putin. Però ecco l'accusa, ha accettato gli aiuti di Putin durante la pandemia, anche perché i nostri amici americani si erano dimenticati di noi. La famosa missione di infermieri, medici, respiratori e mascherine all'ospedale di Bergamo. Orrore, spionaggio. Ecco, che cosa spiavano esattamente quei medici e quegli infermieri, che erano in realtà delle spie di Putin travestite? Le versioni dei media divergono. Intanto spiavano il Covid per fare il vaccino Sputnik, perché in Russia non ce l'avevano i malati di Covid per studiare il Covid. Eh sì, però il Covid di Bergamo piaceva di più, un Covid con un retrogusto di botte di rovere, mentre invece il Covid russo sa un po' di tappo. Seconda versione, spiavano la base nato di Ghedi, che però sta a Brescia, mentre quelli erano a Bergamo. Però con degli speciali cannocchiali probabilmente dall'ospedale di Bergamo riuscivano a vedere qualcosa della base di Brescia. Terza versione, volevano spiare addirittura la base nato di Amendola, che sta in Puglia. E la prova è che un medico aveva chiesto di visitare il santuario di San Nicola di Bari. Furbi loro, no? Stavano a Bergamo, dicevano voglio andare a Bari, perché così vedevano sempre col binocolo, anzi con i telescopi elettronici, telescopi alle orecchiette e alle cime di rapa.